Ciao! Benvenuti su Cartesia! Oggi vi propongo la crema di fragole senza latte, senza uova e senza panna. Buonissima! Trovate qui sotto nell'info box tutti gli ingredienti. Vi lascio il tutorial. Buona visione! Come prima cosa vi serviranno 500 g di fragole. Lavatele benissimo sotto l'acqua corrente e poi tagliatele in piccoli pezzettini. Una volta fatto questo, versate 180 g di zucchero bianco e poi vi serviranno 250 ml di acqua naturale a temperatura ambiente. Bene il succo di mezzo limone. Amalgamate bene il tutto e poi passiamo a frullare il tutto con un frullatore di immersione. Mi raccomando, la vostra ciotola deve essere capiente, sennò vi schizza tutto addosso. Adesso setacciate 4 cucchiai abbondanti di amido di mais. E poi, come al solito, amalgamate bene tutti gli ingredienti. Prima con un cucchiaio e poi utilizziamo nuovamente il frullatore ad immersione. Versate il tutto in un pentolino, accendiamo una fiamma medio-bassa e passiamo ai fornelli. Amalgamate di continuo, mi raccomando, non lasciate mai la vostra crema di fragole, il vostro composto di fragole da sole, sennò si brucia. Quindi amalgamate benissimo. Una volta raggiunto il bollore, continuate ad amalgamare la vostra crema, fino ad ottenere una consistenza cremosa. Ragazzi, è davvero buonissima. Ideale per farcire dolci, torte, da utilizzare anche con la panna cotta, buonissima anche con i biscotti e sulle fette biscottate. Amalgamate quindi sempre, fino ad ottenere questa consistenza come vedete in video. Non utilizzate, mi raccomando, una fiamma alta perché la bruciate. Lasciate intiepidire a temperatura ambiente. Poi, quando sarà raffreddata, mettete la pellicola e conservate in frigo per circa 10-15 ore. Io le preparo solitamente la sera prima. Et voilà, la nostra crema di fragole è pronta per essere gustata. Buonissima anche come dolce al cucchiaio. Mi raccomando, quando create la vostra crema di fragole, quando frullate il tutto, assaggiate con un cucchiaio la vostra crema di fragole. Se lo ritenete opportuno, aggiungete più zucchero prima di mettere la vostra crema nel pentolino, perché il gusto è davvero personale. C'è chi piace anche una crema di fragole, è davvero dolcissima. Quindi, prima di mettere nel pentolino il vostro composto, assaggiatelo e aggiungete più o meno zucchero, se la volete più dolce. Che dirvi ragazzi, io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime videoricette super golose. E tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi su Facebook e su Instagram. Baci da Cartesia